è diventata non era più una batteria super divertente ne provo ancora uno poi basta se non siamo qua fino a domani ragazzi e ragazze vi diamo il benvenuto su gastroep drums vi diamo perché oggi non sono da solo in studio c'è anche andrea bessone ciao a tutti andrea bessone è il prodotto specialist di daddario lato batteria quindi per quanto riguarda le pelli evans e non solo oggi scoprirete il perché per quanto riguarda le bacchette da daddario eccetera 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 oggi insieme ad andrea andremo a vedere questo qua che cos'è questo qua andrea questo qua è la sensory unit hybrid di evans è praticamente un sistema di sensori la gente pensa trigger ma realtà sono sensori perché hanno molto di più di un trigger il trigger divide il tamburo comunque rullante in due zone mentre con questo sensory si può si può lavorare molto di più nel senso si può dividere in dieci zone il tamburo si possono far partire dei loop delle sequenze quindi è una roba un po più avanzata diciamo ok ok allora fermati qua con la spiegazione perché gliela facciamo dopo la sigla devo dire che packaging è fighissimo e in più dietro c'è tutta la questione computer software eccetera quindi mi sa che ci sono un bel po di cose da dire come funziona il montaggio come funziona il software e come si può suonare la batteria con questo sensory percussion sound system di evans quindi vabbè mandiamo la sigla e poi cominciamo a spacchettare e spiegare come funziona sigla allora quindi partiamo dallo spacchettamento che avviene in questo modo qua appoggio questo per terra tanto c'è la camera da sopra questa camera qui ci vedete e allora apro e intanto che cosa vediamo te lo metto davanti così almeno mi dici che cosa c'è e poi mi spiega anche come funziona e soprattutto a cosa serve in pratica quindi partiamo allora partiamo dalla cosa più strana che il codice qr che è quello che ti permette di scaricare il software per usare questo sensory quindi diamo anche il software per creare i suoni per fare la tua libreria per usare i suoni che ci sono già dentro e poi passiamo al modulo che è diciamo la testa di questo sensory i tre trigger che danno in dotazione poi ci sono i vari cavi adattatori prese di corrente esatto l'adattatore per la pelle emad nel caso serva a montarlo su una pelle acustica emad per per far sì che che sia ok con il cerchio della pelle emad quindi se sia una pelle normale non serve però in dotazione esatto poi c'è il kit di stampini diciamo adesivi che sono composti da una guida che questa v e dal pallino che è quello che rimarrà poi sulla pelle quelli servono per il montaggio giusto esatto per il montaggio ok perfetto poi spieghiamo la parte spieghiamo dopo guida su come si monta come si monta usbc e cavi per i trigger tanto dopo vi faccio una panoramica bene poi su tutto quello che si può fare con questo questo modulo e soprattutto quali sono i cavi inseribili come attaccare al computer eccetera 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 e poi due bacchette special edition per la sensory che sono delle promark con lactic grip è nulla ok 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 perfetto quindi direi che a questo punto possiamo spacchettare tutto e cominciare con il montaggio del della pelle cioè di questo senso di sulle pelli ve lo faremo vedere su una pelle sola anche perché poi è uguale in tutte quante le pelli vi ricordo che anzi vi ricordo niente perché non ve l'ho ancora detto ma vi dico che oggi abbiamo montato delle Evans DB0 cioè le Evans pelli mesh quindi silenziose e i piatti Evans silenziosi anche questi sono i DB1 questi ok quindi della serie DB1 si può fare anche su pelli e normali quindi potete anche o pelli DB1 o anche normali acustiche ok salviata clear quindi quindi ovviamente se le fate su DB1 non avrete il suono della batteria avrete solamente il suono del trigger se la fate sulla pelle sulle pelli normali potrete andare anche a miscelare infatti io consiglio sulle pelli normali magari in una situazione live dove la gente sente da fuori e ti serve magari sia il suono vero che il suono perché volendo si può anche usare come trigger normalmente cioè un trigger base con un suono miscelare i due suoni invece se serve solamente il suono della Evans hybrid si usano le mesh in maniera che non rientrino magari nei panoramici o ok 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 perfetto quindi direi per far sì per non far sì che il video duri sei ore e mezza passiamo direttamente al montaggio togliamo tutto e ci vediamo nell'altra camera direttamente sul timpano così vediamo il montaggio allora partendo al montaggio iniziamo con questi adesivi che sono questa parte qua rotonda che andremo a mettere sul sulla pelle e c'è questa guida a forma di v che serve praticamente per fare da distanziale e mettere nel punto preciso il l'adesivo diciamo quindi questa qua si andrà a rimuovere questa v adesso non riesco più a prenderlo e stacco la copertura dell'adesivo in maniera che si attacchi quindi stacchiamo questo quindi metti la v lì attaccata esatto che tocchi il cerchio poi l'unica cosa che attacca è il pallino esatto un accorgimento importante è metterlo sempre tra due tiranti e non sul tirante per questo perché essendo un sensore che reagisce guardando la vibrazione del di questo pallino di questo adesivo cambia quando quando l'accordatura leggermente si smolla e il tirante è il punto in cui l'accordatura è più soggetta a perdersi mentre se tra due tiranti è una via di mezzo che va bene quindi raccomando di montarlo sempre tra un tirante l'altro e magari all'esterno dei tamburi semplicemente per non avere i cavi in mezzo alle gambe esatto sì certo magari non lo vai a mettere sì perché comunque lo tocchi esatto e niente una volta che che si mette l'adesivo si fa forza su questa v che dopo un po viene via ok perché è attaccata tramite un piccolo strato di metallo e di base non serve più quello no questo qua si butta via e basta e qua andremo a mettere il trigger sopra in maniera che sia centrale non è importante metterlo millimetricamente ma che sia comunque centrale ok 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 che quindi vada a prendere abbastanza lo stampino esatto il pallino va bene quindi i trigger te li ho appoggiati lì per terra da sotto ottimo allora prendiamoli con questo si svita sono una vite ok si regola esatto non c'è bisogno di chiavette e cose no 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 adesso lo svitiamo che vada bene ed è qua che si va a mettere poi nel caso della emad il l'adattatore l'adattatore lì in mezzo ok 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 adesso praticamente si guarda che sia comunque al centro si vede anche perché non tocca la pelle è solo proprio è solo proprio sospeso diciamo esatto vicino quindi ok non tocca il trigger non tocca infatti è questo quello che permette di far lavorare il sensore che infatti sto continuando a dire trigger ma è un sensore ok ok il sensore in dieci zone perché se fosse ad appoggio lui ti riconosce il bordo per dire o il centro certo mentre essendo un sensore fa lavorare liberamente questo la pelle con questo adesivo che si muove e in base a dove andiamo a colpire il fusto che può essere anche sul lato sul bordo con la punta della bacchetta scolcolo della bacchetta esterno medio e centro rimshot o side sticks o rullante cassa addirittura cerchio della cassa e va a capire il suono da segnare ok quindi è molto di più sì di un trigger perché il trigger di solito abbiamo un trigger una zona puoi fare rimshot il bordo esatto esatto qui invece è completamente diverso oggi siamo siamo ed è ovviamente un po più tecnico perché bisogna spiegarla per capire come funziona poi in realtà una volta installato una volta che si capisce come funziona è molto semplice l'importante è capire il funzionamento e capire che non è solo un trigger perché sono ti aspetti due suoni e basta esatto esatto ok quindi abbiamo montato il pallino abbiamo montato il trigger e adesso si uniscono i cavi li colleghiamo al modulo e poi è fatta ok quindi è fatta l'abbiamo fatto sul timpano ovviamente è la stessa cosa sul rullante stessa cosa immagino sulla cassa perfetto e quindi andiamo a montare tutto montiamo i cavi colleghiamo i cavi dal dalla parte centrale del trigger da sopra quasi da sopra in più dopo vi farò vedere c'è questa fessura dove si incastra il cavo in maniera che non sia ballerino nel senso va giù si incastra qua almeno sta dritto quindi andiamo a montarli tutti tanto avete capito più o meno come funziona li colleghiamo alla centralina e poi passiamo alla parte di training ok piccolo appunto solamente abbiamo avuto un problema inserire il pad sul rullante che avete visto prima perché è un rullante artigianale e abbiamo scoperto essere un filo più piccolo di 14 pollici quindi non calzava perfettamente questo sensore ma comunque funziona questo sensore su tutti i rullanti normali quindi tranquilli funziona su tutti abbiamo provato su questo e siamo a posto adesso quindi abbiamo montato tutto abbiamo collegato tutti i cavi alla centralina che potete vedere i cavi sono collegati davanti abbiamo collegato la centralina tramite usb al computer training siamo pronti per fare il training ok training che cosa vuol dire allora il training consiste nel allenare diciamo insegnare al modulo il nostro modo di suonare in pratica posso suonarlo io posso può suonarlo luca cambia con quel tocco perché abbiamo due tocchi diversi e quindi lui capisce in base a come suoni a come colpisci la batteria anche nel senso come sono io quando colpisco il cerchio come sono io quando colpisco col side stick quando colpisco la cassa l'esterno del timpano per dire il centro e le varie parti in cui vogliamo dividere ok praticamente impara il tuo modo di suonare esatto è un training per il programma che capisce in che maniera tu tocchi la batteria non è più bravo o meno bravo è proprio differente su qualsiasi batterista è una questione di feeling principalmente esatto il feeling della macchina che deve sentire come come reagisci tu quando quando suoni il bordo come lo stai suonando in maniera da capire come come segnare il suono ok 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 molto figo cioè nuova come cosa perché sì che poi uno parla di training e sembra una cosa lunghissima difficilissima in realtà ci va un minuto e ci sono varie sezioni che poi vi faremo vedere tanto vedete il computer esatto con l'app e quando si va sul si parte dalla cassa per esempio si va su edit e poi ci sono due livelli di training ad esempio c'è il level one che è il basico e il level two che sono un training extra diciamo partiamo col basi col basico in questo caso l'ho già fatto però si può fare benissimo reset reset si fa ogni tanto nel senso ogni volta che per dire si registra che si vuole avere la perfezione si fa un reset perché magari la pelle ha leggermente cambiato tensione oppure quel giorno lì suoniamo più forte più piano o se suona un altro batterista subito dopo si fa il training ad esempio suono io adesso lo faccio quando lo proverà Luca lo faremo in maniera che sia adatto al batterista che sta suonando certo 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 quindi si fa il reset allora forse lo farei sul rullante questa prova anche un po' più visibile con più parti sì e la penso da me allievo oggi perché alla fine oggi sono allievo io e sto imparando proviamo a fare il suo rullante così almeno capiamo come funziona l'applicazione eccetera ok allora qua ci sono vari livelli di training dal level 1 al level 2 al level 3 addirittura sul rullante perché ci sono più zone ok partiamo col level 1 io direi consiglio a tutti di partire dal primo così si capisce come funziona il training ok level 1 e quindi per difficoltà tra virgolette praticamente con meno zone nel senso quando andiamo a level 3 ci sono tutte le zone del rullante che magari di cui magari non abbiamo nemmeno bisogno di 10 zone certo e le zone sono quelle che vedi in grigio esatto tutte quelle lì sono è come se ogni parte è un suono che puoi assegnare vedi ok perfetto quindi come se vedessi il rullante diviso in tutte le zone ok 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 vedi il livello 1 ad esempio te lo divide in queste poche zone qua in maniera da risultare anche più facile da colpire nel senso se hai bisogno solo di questi suoni è la maniera più comoda da fare il training certo quindi vai a allenare dieci suoni che magari non ci servono certo quindi centro il centro intorno al centro poi qua c'è il bordo col collo della bacchetta e l'altro è la punta che qua adesso mi riconosce perché non ho fatto il training perfetto quindi questa è l'importanza del training ok siamo sul training ho visto che sotto c'è una barretta che cos'è quella barretta allora è una barra di completamento praticamente che consiste nel ogni tot colpi che dai lei avanza e consiglio di dare più colpi possibile nella maniera diversa in maniera da allenarlo a tutto l'eventuale possibilità dinamiche diciamo ok poi abbiamo due barrette sotto dove c'è scritto minimum e recommended praticamente il minimum è il minimo che devi suonare per avere un training decente ok 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 e recommended è quello che consigliano tutti se ne fai di più ben venga voglio dire più roba fai ok allora partiamo qui io consiglio di farlo sempre tutto tanto ci va meno di un minuto certo quindi partiamo dal centro giusto esatto si parte dal centro ok quindi ho visto che hai fatto pianofolte buzz rollate si perché deve capire qualsiasi cioè più opzioni li dai e più lui è capace a riconoscere ok ok quindi avete visto ci va un attimo io consiglio sempre di farlo tutto almeno certamente certamente una volta che abbiamo abbiamo fatto il centro ad esempio in questo caso si clicca su next zone e si va sul bordo diciamo sull'esterno pelle diciamo ok e qui le suoni in tutto l'esterno solo in una parte ottimosi posso suonarlo dove voglio meglio dove voglio senza toccare questo perché comunque come il normale anche trigger meglio non colpirli non gli piace qua era ovviamente già trainato come vedete completo adesso lo resetto per farvi vedere come faccio certo certo ok in questo caso consiglio anche di fare attenzione e guardare dove si sta colpendo perché nel caso si sbagli si colpisce un bordo o il centro lui rimane un po confuso esatto perché lui ti lo riconosce però comunque inizia ad andare in tilt perché ok ok essere il più precisi possibile e dare tutte le opzioni di poi quando andiamo suonare perfetto quindi giusto per appunto non metterci troppo non fare il video appunto delle sei ore e mezza solite quindi si fa per tutte le zone questa cosa quindi anche per il bordo anche per si passerà poi dopo al bordo ad esempio c'è la possibilità di suonarlo con la punta della bacchetta o col collo quindi così oppure in maniera che poi se voglio mettere ad esempio un charleston con la punta della bacchetta o un crash col collo della bacchetta me lo può riconoscere quindi ci sono mille possibilità e appunto qui solamente per queste zone qua sì esatto solo perché ho selezionato la basic diciamo level 1 ci sono quattro zone ok tu consigli in generale poi facciamo tutto il training di tutto e poi suoniamo direttamente tanto avete capito come funziona consigli di provare tutte le varie possibilità di zone oppure tenere io allora inizierei fossi io come ho iniziato io inizierei con level 1 perché inizio a capire come funziona ok una volta che si ha dimestichezza col programma allora si può andare oltre e oltretutto ad esempio se si usa un preset già fatto che è studiato comunque da chi l'ha progettato si può fare il training di tutto ad esempio ci sono dei kit che dopo faremo sentire acustici dove allora c'è il size stick c'è il rim shot c'è il bordo del timpano allora lì si può fare il training di tutto perché comunque è un kit completo quando vado a costruirmi il mio kit perché c'è anche la possibilità di costruire il tuo kit con i suoni esportati da un programma per esempio consiglio di non mettere troppa roba perché bisogna avere dimestichezza a programmare ok 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 è tutto è una cosa fattibile però bisogna essere abituati quindi più si parte dal semplice più come si va bene certo certo ovviamente allora quindi facciamo il training di tutto e facciamo un taglio e poi ci vediamo al training fatto andiamo ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questo suono qua è diventata, non era più una batteria, era un strumento musicale, poi bisogna farci la mano perché ogni impostazione cambia anche l'attività perché qua cambiava ad esempio lo strumento musicale, qua c'era il giro di note e qua c'era una nota coerente con questo giro di note. Ok, sulla cassa c'avevo la cassa normale e su rullante rullante. Ok, ok, però quindi praticamente qualsiasi minimo movimento o suono diverso che si fa con la bacchetta lui lo prende. Sì, esatto, quindi bisogna anche essere precisi e comunque abituarsi al set che si sta suonando. Ok, quindi detto questo è ancora più importante qua il training che appunto abbiamo fatto ma mi raccomando se lo fatelo, fatelo bene. E fatelo voi, nel senso non fatevelo fare da uno che poi dopo suonate voi. Ok, 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 infatti dopo voglio provarla ma io dovrò rifare il training ovviamente, quindi ci fai sentire qualche suono passando magari, qui era un suono bello strano che faceva capire le possibilità, magari partirei da un suono di batteria normale, tipo base, ok, un kit base, va bene. E poi per andare su qualcosa di più complicato. Vi posso far sentire un set che ho creato io con delle note di pianoforte che mi son fatto, un po' lo fai, semplice che però vi fa capire cosa si può fare. Vai. Vai. Che figata, che figata, io sto sentendo, adesso non ho le cuffie ma ho delle casse attaccate, quindi lo sto sentendo dalle casse e comunque è impressionante sta roba, impressionante. Cioè non ho mai visto una roba del genere. Puoi avere una batteria acustica, cioè elettrica che però a tutti gli effetti fa i suoni di un'acustica, molto sensibile nel senso che prende il side stick, il rim shot e poi soprattutto a differenza di una batteria per dire elettrica, te lo traini tu come vuoi, cioè nel senso il rim shot che fai tu è il tuo rim shot. Quindi riconosce quando, a seconda, se ci dai più bordo o più pelle, riconosce, esatto. Completamente assurda questa cosa ma figata, quindi adesso voglio trainare io. Certo. Voglio fare il training e provare perché sentita è una bomba ma secondo me da avere sotto le mani è ancora meglio. Quindi solita roba, c'è un training da fare, quindi ci vediamo dopo. Non vi rompiamo le scatole del cold training, intanto avete capito come funziona. Vado a fare il training io e poi la provo. Un po' di fette però. Questa roba della punta è una roba non ha senso. E anche qua. Vuoi provare l'altro kit? Sì, come faccio a comprare il kit? Da sopra. Ah, di qua, ok. Prova a caso, eh? Sì, sì, vai. Fitchy Perk. Molto carino. Questo è tipo quello quando metti nell'acqua. Ed è una musica. Super divertente, ne provo ancora uno poi basta se non stiamo qua fino a domani. Analog trap. Cambia anche in base se vuoi all'intensità, questo è un preset quindi non abbiamo scelto cosa volevamo, qua probabilmente c'è l'intensità perché cambia anche in base all'intensità che gli dai di forza e in base alla velocità può cambiare il suono se vuoi, ci sono mille varianti. È vero? Senti. Ok. In base alla tua forza, alla dinamica, esatto. Figata. Qui tra l'altro c'è anche un effetto, quindi puoi mettergli anche delay e poi la figata è che puoi metterci dei loop, ad esempio tu scegli di far partire una canzone col bordo del timpano e parte e suoni il pezzo. Bellissimo, bellissimo. Cioè... Con calma. Figo, figo. Ci riscambiamo di posto e salutiamo. Di qua. Come siamo partiti. Però io vado un po' indietro se non mi toglie dal fuoco. Quindi, allora, l'ho provata devo dire sensazionale. Nel senso che non ho mai provato una cosa del genere, perché forse non esiste una roba del genere. È la prima volta che viene creata. Anche perché la gente pensa siano trigger o sia addirittura come altri prodotti che fanno da microfono, che però non è proprio questo. No, nel senso... È solo un sistema di sensori che può servire a un batterista, ma a una persona che suona in un club con un dj, a uno in studio che magari vuole con un tamburo far più suoni, quindi... Ovvio che studia a casa, perché tanti comunque mi dicono... La usi come batteria elettrica, diciamo. Esatto. Tanti mi dicono, io ho la batteria ma non posso suonarla, quindi ho messo le pelli mesh e gli ho messo i trigger. Esatto. Con questo è ancora di più. Con questo è ancora di più. Quindi, super promossa come cosa, era un po' scettico devo dire all'inizio, perché ho detto boh. È che non si capisce tanto cos'è finché non la provi o finché comunque non ti spiegano in dettaglio cosa puoi fare. La cosa dei bordi mi ha scioccato di più di tutto. E quindi, allora... Altra cosa voglio aggiungere, si può espandere fino a sette trigger, quindi in dotazione te ne danno tre con i cavi già dentro la scatola e tutto, si possono mettere fino a sette entrate. Ok. Più due panoramici anche dentro il modulo, se non avete la scheda audio. Esatto, esatto. Quindi vabbè, oggi i panoramici li ho fatti entrare nella scheda audio, normale, però... grazie mille. Ultima cosa non meno importante che volevo dirtela, ci tenevo. Dentro la confezione sotto il codice QR c'è un codice che si trova su tutti i prodotti da Dario. Questo codice registrandosi su Player Circle, gratuitamente, ti offre dei punti. Ok. In questo caso, essendo un prodotto che comunque costa più di una pelle. certo. Quindi ti dà più punti. Si possono ottenere, mi pare, non so sicuro però, tutto il kit DB1. Quindi con una cosa hai tutte le pelli, voglio dire. Cioè tu comprando questo tieni talmente tanti punti che ti regalano il DB1. Ok. La spedizione è gratuita in Italia. Ah ok, il DB1 è quello delle pelli. Sono quelle pelli mesh, ibride diciamo, mesh che però si sente... è suono ridotto diciamo al 30%. Ho già fatto un video sul DB1, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Fine, ok, ok, perfetto. Quindi, appunto, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è sembrato, se vi è piaciuto, se l'avete già sentito, se magari l'avete già provato. Ovviamente per tutte le domande scrivete sempre qui sotto o io o Andrea che ne sa più di me commentiamo e grazie mille ancora per essere venuto qua. Grazie a te per la possibilità. Grazie a te per la spiegazione super di questa cosa e per il prodotto che hai portato. e quindi ringraziamo Evans e Dardario per averci permesso di fare tutto questo. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, campanellina, commentate tutto quanto. Ciao! 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 Ciao!